E oggi firmiamo un protocollo d'intesa con il comando provinciale della Guardia di Finanza, un risultato importante, ecco la provincia di Frosinone da un lato riesce a reperire grandi risorse sul piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'altro però firmiamo questo protocollo proprio per tutelare l'amministrazione provinciale, per prevenire azioni di speculazioni sui appalti pubblici e quindi credo che questa azione sia volta alla tutela dell'amministrazione pubblica ma soprattutto garantisce uno sviluppo economico, sociale e umano sempre maggiore di quello che c'è oggi e quindi sicuramente è un segnale importante che diamo alla cittadinanza e quindi ringraziamo il comando provinciale e la Guardia di Finanza. Comandante, in cosa consiste questo protocollo? Questo protocollo fa seguito a quanto era già stato detto in più circostanze. L'anno scorso, verso la fine dell'anno, c'è stato un incontro con tutta la stampa e in occasione della visita del comandante interregionale. L'impegno che la Guardia di Finanza quest'anno mette in campo per far fronte alle esigenze connesse all'impiego di risorse pubbliche di notevole entità è un impegno prioritario e quindi le unità territoriali, i comandi provinciali con la provincia e con i comuni che sono interessati perché coinvolti nella gestione dei fondi del PNRR è stata avviata una interlocuzione per stabilire delle modalità volte a prevenire che queste risorse possano non essere impiegate nel modo più corretto. La finalità è proprio quella di creare le premesse per poter avere uno scambio di informazioni e una collaborazione a priori, prima ancora che queste risorse vengano effettivamente impiegate perché la prima esigenza da soddisfare è quella di cercare di prevenire che queste risorse non seguano e non vengano impiegate così come è normativamente previsto.